Un cordiale saluto e una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. Il traffico scorre al momento regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPILI. Prudenza in A1 per personale su strada tra Sasso Marconi e Ronco Vilaccio in entrambe le direzioni. Da giovedì 20 ottobre possibili disagi per la ripresa dei lavori in FIPILI tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Per una gara ciclistica di handbike oggi a Pisa, importanti provvedimenti di mobilità e sosta, in particolare chiusi i lungarni fino alla fine della manifestazione nel pomeriggio. Restringimento di carreggiata a Firenze per lavori in via Lorenzo il Magnifico Angolo Piazza della Libertà. Restringimenti anche sul viale Lavagnini in direzione Piazza della Libertà. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!